L'educazione finanziaria non vi lascia soli, non vi è ben lasciate solo in tutto questo mese di luglio e i primi di agosto, ma le repliche ci saranno per tutto il mese di agosto, dal 1 di 8 fino a tutto settembre. Saremo con voi in replica con tutti gli ospiti di Economicamente. Potete rivedere tutte le puntate e seguire tutte le consigli e le divulgazioni dal punto di vista di educazione finanziaria. Vi auguro una bellissima estate di ripresa e di ristoro per un autunno di ripartenza. Alle prossime puntate. Grazie.